Buongiorno Presidente, la notte del 31 dicembre un colpo di pistola un colpo di pistola, non sono io che ho sparato, no? Perché ridono tutti? Un colpo di pistola, partito dalla pistola appunto del suo deputato, deputato del suo partito Emanuele Pozzolo ha ferito una persona che partecipava a una festa di Capodanno le chiedo innanzitutto che idea si è fatta di quella vicenda si è anche chiesto direttamente conto di questa storia al Pozzolo che provvedimenti se intende prendere nei confronti del deputato e legato a questo le chiedo se anche quello che è emerso in questi giorni sul background, sul passato di Pozzolo, le posizioni Novax, i post apertamente in sostegno a Benito Mussolini, definito uno statista non pongano un tema più generale sulla selezione della classe dirigente del suo partito grazie